Roma pensaci un istante uno scienziato un atleta un insegnante un... un... ok, non lasciarti ingannare dall'immaginazione concentrati un interprete uno psicologo un astronauta non esistono limiti esisti tu esiste chi sei il sogno che vuoi diventare e il giusto posto in cui realizzare tu metti ci impegno e perseveranza noi ci mettiamo accoglienza preparazione sviluppo del pensiero critico spinta verso l'innovazione apertura attenzione a ciò che succede nel mondo esperienze culturali supporto e... passione lo facciamo da più di 40 anni inizia a costruire la tua Roma fai il primo passo per raggiungere la cima scegli il percorso che ti porterà il traguardo i sogni si realizzano da svegli scendi dal letto fai colazione vestiti e... concentrati concentrati non accontentarti e preparati a diventare il tuo sogno nel posto in cui cominciare a realizzarlo spedare il tuo sogno scegliere il tuo sogno